L'antica tecnica dell'intaglio, appartenente al DNA Dolce Gabbana, corrisponde alle tradizionali camice e i veli sardi che vengono realizzati in cotone, lino e seta. Questi pezzi simboleggiano rispetto e appartenenza alla terra. L'intaglio viene eseguito in tre modi diversi. Il primo è un intaglio su velluto con tulle illusion che crea trasparenze e giochi di pieni e vuoti dall'effetto leggero e sensuale. La seconda lavorazione è un intaglio su micado con organza e su tache che mette in evidenza i disegni di macrofiori evolute. Infine, l'intaglio su micado con l'intervento del ricamo all over paillette oro ricorda e riproduce il lavoro magistrale delle filigrane.